su sostenibilità, tecnologie e investimenti a seguito della terza edizione del Globus Annual Meeting. Conosceremo poi l'esordio letterario di Matteo Nervi tra indagini introspettiva, solitudine e critica di genere. Faremo un confronto tra ideali, valori e temi caldi nella politica e nei sindacati di ieri e di oggi. E infine avremo in collegamento dal Messico l'artista Miguel Angel Acosta Lara. Ovviamente tutto questo insieme alle nostre rubriche e subito dopo la sigla. Eccoci con una nuova puntata di Psofatto, l'Italia si racconta, un ben ritrovato a tutti voi che ci seguite, un ben trovato alla prima ospite di questa puntata, l'avvocato Ilenia Lombardi, al cui do subito il benvenuto vicepresidentessa tra l'altro di Globus. Buongiorno Ilenia, ben trovata. Buongiorno Francesca e grazie per l'invito. Grazie a te per essere nostra ospite. Introduco subito la tematica perché il 23 e 24 maggio scorsi a Roma si è tenuto il Globus Annual Meeting, momento di confronto tra i maggiori esperti internazionali sulle sfide che le PMI e i professionisti dovranno affrontare a seguito dell'obbligatoria adozione di criteri ISG, ovvero fattori ambientali, sociali e di governance e dell'avvento delle nuove tecnologie. Ne parliamo appunto con te che sei l'organizzatrice dell'evento insieme a Giovanni Marco Borroni e Carlo Zaccannini. Ecco, siamo ormai giunti Ilenia alla terza edizione di questo meeting perché secondo te c'è bisogno di un evento del genere che ogni anno si ripete? Allora, diciamo che se parliamo di bisogno e che considerando il fatto che di eventi ce ne sono tanti, perlomeno in Italia e su queste tematiche oggi hai l'imbarazzo della scelta, quindi il perché? Noi come Globus nasciamo nel 2018, è un'associazione iscritta e registrata a Bruxelles di professionisti, professionisti quindi trasversali sia in termini di competenze ma anche in termini di provenienze geografiche, io direi anche giurisdizionali perché poi il core iniziale è uno spin off di avvocati di varie giurisdizioni che ha lasciato una precedente piattaforma per creare un nuovo progetto perché non concordavamo certi approcci, soprattutto da un punto di vista etico professionale, quindi abbiamo iniziato con Globus. però Globus non voleva essere solo un'associazione di avvocati, bensì di professionisti che con il pretesto noi abbiamo proprio nel nostro programma per conoscerci meglio, per scambiare esperienze, idee e anche per confrontarci su tematiche attuali che sono trasversali anche a livello di giurisdizione, abbiamo questo appuntamento annuale e ogni anno selezioniamo poi la sede dell'evento per l'anno successivo. l'anno scorso è stata Atene e quest'anno si era deciso per l'Italia, Roma in quanto diciamo città baricentrica anche da un punto di vista logistico per chi veniva dall'estero, quindi per motivi proprio logistici appunto e quindi ci siamo trovati a Roma per il 2024 e avendo l'onere io di organizzare questo evento insieme ai miei diciamo partner italiani, quindi Carlo Zaccagnini che è basato su Roma mentre Giovanni Marco Boroni è qui anche lui su Ancona e Milano, abbiamo voluto restare diciamo sulla scia di tematiche che sono al momento critiche un po' per tutti, critiche da un punto di vista di difficoltà di approccio per quanto riguarda soprattutto il tema della reportistica ISG e interessanti perché comunque l'approccio alle nuove tecnologie che ormai pervade la vita della persona del singolo piuttosto che dell'azienda, piuttosto che del professionista nelle varie applicazioni è una cosa che non si può ignorare. Assolutamente Elena, non si può più ignorare, è una bella sfida ed è una criticità allo stesso tempo sono stati quattro i panel, come si è articolato il tutto e che cosa è emerso? So anche che a Roma insomma sono arrivati tanti relatori da nazionalità differenti e con ruoli differenti raccontaci un po' quali sono i dati salienti che sono emersi da questi giorni. Sì, dunque i panel della mattina hanno riguardato, partendo con il panel degli investimenti poi siamo passati appunto al panel delle nuove tecnologie e il pomeriggio ci siamo divisi invece i lavori tra il dottor Borroni che ha moderato il panel appunto della ESG reporting e io che ho chiuso con quello della sostenibilità nel mondo delle costruzioni perché è un tema a me particolarmente caro quello che è la sintesi che poi ho fatto in due parole perché siamo riusciti a chiudere, è stata una giornata impegnativa ma siamo riusciti a chiudere nei tempi che ci eravamo dati miracolosamente, è stato proprio questo cioè l'importanza a tutti i livelli e nei diversi ambiti di competenza di un flusso di informazioni costante e attendibile perché poi è questo lo strumento attraverso il quale implementare appunto canoni che sono di nuova applicazione e che permetterebbero un approccio in linea con quelli che sono appunto i dettami che la sostenibilità oggi ci impone declinando sia i vari goal e degli obiettivi sviluppati dalle Nazioni Unite che poi andando entrando nell'ambito specifico della riportistica la nuova normativa che sta elaborando l'Unione Europea in questo ambito appunto quindi è fondamentale il flusso informativo, un flusso informativo costante e soprattutto di qualità ecco utilizzo questo termine. Quindi si devono incontrare sostanzialmente il mondo professionale, quello del business e delle tecnologie con tutto ciò che riguarda la sostenibilità. Secondo te Ilenia l'Italia è pronta e se dovessimo fare un parallelismo anche con il resto del mondo visto che i relatori affluivano da vari contesti geografici differenti come siamo messi? A che punto siamo? Cosa è stato fatto? Cosa c'è da fare? Allora l'Italia è pronta, diciamo che li stiamo affrontando e secondo me l'attenzione che viene dedicata oggi a queste tematiche da da vari fronti lo testimonia perché appunto non è nel primo né sarà l'ultimo evento che viene organizzato su questa linea diciamo. Quindi pronti forse no nel senso che nessuno è pronto a cogliere in pieno neanche la magnitudine dell'impatto che questo avrà sia in termini di costi perché sappiamo che saranno impegni di spesa ulteriori che banalmente non tutte le aziende, anzi probabilmente la maggior parte delle aziende potrebbero non essere in grado anche di sostenere. La domanda provocatoria che ho posto io all'inizio in apertura è stata proprio questa come possiamo noi come professionisti che assistiamo aziende e che aziende che operano nei mercati internazionali perché questo facciamo, come possiamo aiutarli ad affrontare la sostenibilità in modo che non diventi un peso o un onere insostenibile? Questo è il rischio. Oltre al fatto che facendo un passo indietro la prima cosa è un cambio proprio di mentalità. Molti ci sono già arrivati e anche nell'esperienza delle nostre piccole e medie aziende, anche della zona e non solo, noi abbiamo esperienze virtuose di imprenditori illuminati che hanno deciso per esempio di adottare questa reportistica su base volontaria, quindi e non è solo perché vogliono dire noi siamo i più bravi, vogliono comunicare un messaggio diciamo solo pubblicitario, ma perché determinati valori li hanno inglobati nella loro visione e cercano di incarnarli nella loro interpretazione quotidiana del business. Quindi questi esempi li abbiamo già. abbiamo però anche una casistica di molti altri che non vedono proprio l'utilità, che vedono ancora queste tematiche come un qualcosa di fashion, fashionable, che adesso va di moda ma che poi come tutte le cose di moda prima o poi passerà. Ecco, questa è un po' la difficoltà. Sì, certo, è proprio il cambio di mindset, di paradigma, che poi è una parola che io mi trovo a ripetere in ogni puntata, qualsiasi argomento sostanzialmente si vada ad affrontare se siamo in questo ambito e ti dico, mi è piaciuto molto questo spunto di riflessione, la prima volta che mi capita, di sostenibilità e qualcosa che non diventi insostenibile ai fini della sostenibilità. Quindi dobbiamo lavorare. Per cui c'è ancora da fare, però diciamo che c'è un work in progress, Ilenia, mi sembra di capire. Quindi immagino poi comincerete a lavorare anche già su quella che è la quarta edizione, quale sarà anche la nuova città da proporre, giusto? Esatto, sì. Sappiamo che sarà Lisbona e adesso inizieremo a confrontarci sui contenuti, certamente. E allora buon lavoro, Lisbona è una città tra l'altro che io amo particolarmente, sul mare, meravigliosa. E quindi insomma, buon lavoro, perché c'è tanto da fare, sembrano tanti 12 mesi, ma in realtà quando gli argomenti sono così numerosi e delicati, bisogna partire per tempo. Grazie ancora a te, Ilenia, l'Avvocato Ilenia Lombardi. Grazie, grazie, grazie. E ora invece appuntamento con il nostro angolo di Cronaca Rosa. Eccoci, grazie Regia, in collegamento da Roma con la nostra giornalista, direttrice responsabile di Così, in uscita in questi giorni, Sara Moretti. Sara, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, raccontaci un po' le novità e lo facciamo con la cover in sovraimpressione, così possiamo vedere anche questa nuova uscita di Così insieme. In copertina tornano i discendenti della famiglia reale, abbiamo Re Carlo, Megan, il figlio Henry, se ne parla tantissimo in questo periodo, sappiamo che non versano in un momento facile per condizioni di salute, oltre che per cherelle già note da prima familiari. Raccontaci, Sara. Sì, diciamo che in questo momento la malattia da monarchia non sta vivendo un periodo roseo, ovviamente, e in primis c'è la malattia del Re Carlo, che sappiamo tutti ormai essere malato di tumore, così come ha annunciato da qualche settimana ormai anche la principessa Kate Middleton e appunto anche lei purtroppo ha lo stesso destino del sovrano. Diciamo che la monarchia è in generale un po' in crisi proprio per questi motivi, perché la malattia viene vissuta come un fatto molto serio ovviamente dai sudditi e questo perché soprattutto la malattia di Kate, devo dire, in quanto è la consorte del prossimo Re, quindi diciamo che getta sconforto per quanto riguarda un futuro vero e proprio della monarchia. Al tempo stesso abbiamo Re Carlo, come si vede dalla nostra copertina, che in un momento così duro, e chi li sta mettendo veramente alla prova, lui chiede coesione familiare ed è un po' quello che fanno tutti i papà, diciamo al di là del fatto di essere reali o persone comuni, cioè cercare di tenere unita la famiglia in un momento delicato come quello che stanno vivendo, anche perché nella vita sappiamo benissimo che tutto si risolve, ma davanti ai problemi di salute, insomma, forse un po' tutti dovremmo fare un passo indietro. Ed è quello che lui chiede a Harry e Megan, che con la loro decisione, che hanno, ormai lo sappiamo tutti, insomma, hanno deciso di abbandonare la famiglia reale, si sono trasferiti oltre l'oceano, hanno una loro vita e pare che siano convinti di non tornare sui propri passi e invece in questo momento Re Carlo chiede coesione e chiede anche ai fratelli di amarsi come probabilmente avrebbe voluto anche la loro mamma, Diana, che ha sempre cercato di tenere la famiglia unita malgrado tutto e malgrado anche i suoi sentimenti. Grazie Sara, sì, un momento delicato, emerge necessariamente la dimensione umana dietro a quella che è l'etichetta e anche a quello che è il ruolo chiaramente istituzionale. Cambiamo completamente argomento, prime notizie ufficiali, Sanremo, Carlo Conti. Sì, allora finalmente abbiamo un nome, direi. Dopo tutte queste settimane in cui c'è stato veramente un totonomi, sappiamo che a rispondere presente alla chiamata della RAI è stato Carlo Conti. Bisogna vedere, nel senso che io ho tanta curiosità rispetto alla sua presenza, lui torna sul palco dell'Ariston dopo sette anni, dopo di lui infatti c'è stato Claudio Balloni per due edizioni e come sappiamo Amadeus per cinque. Cinque edizioni che sono state straordinarie, che hanno battuto tutti i record, quindi diciamo che arrivare dopo il mattatore Amadeus è una bella responsabilità, oltre che ovviamente una bella sfida da accogliere. Lui è pronto ad accogliere questa sfida, festeggia così tra l'altro i suoi 40 anni in RAI, quindi anche un bel modo per omaggiare l'azienda a cui ha dato tanto e che le ha dato tanto. Lui è un professionista, lo conosciamo tutti, intrattiene, piace, non divide assolutamente l'opinione pubblica, sicuramente sarà un successo, sicuramente sarà una bella sfida, come dicevo prima, perché appunto prende un'eredità che non è proprio così facile da gestire. È un bel passaggio di testimone effettivamente a livello artistico, poi torna a far parlare di sé Maddalena Corvaglia, ricordiamo la velina, una delle veline più amate e che tuttora appunto sono rimaste sulla cresta dell'onda, che dichiara oggi sono serena e libera. Spiegaci perché Sara? L'abbiamo vista recentemente partecipare a Pechino Express, che per lei è stata un'esperienza di rinascita, cioè un Pechino Express sappiamo essere un reality anche abbastanza pesante se vogliamo, che nella vita di ogni concorrente segna un po' uno spartiacqua e c'è chi lo fa perché ha bisogno in quel momento di dare una svolta alla propria vita, c'è chi lo fa per fama, per carità, come si fa anche all'Isola dei Famosi, c'è chi invece, come nel caso di Maddalena, lo fa per mettersi alla prova e riacquistare la fiducia in se stessa. Lei ha vissuto anche lei un periodo difficile dovuto comunque alla separazione dal marito, lei è andata a vivere a Palma di Mallorca con la figlia e posso dire che si è una donna che si è reinventata più volte nel corso della sua vita e con Pechino Express è riuscita a riacquistare fiducia e consapevolezza, che sono due cose di cui lei aveva realmente bisogno in questo periodo in cui aveva un po' perso la fiducia nella gente e nel mondo. Ognuno di noi magari passa dei periodi in cui ha bisogno di una scossa. Ecco, questa scossa l'ha trovata in Pechino Express, dove è arrivata anche alla puntata finale e devo dire che è stata molto in gamba e come dicevi tu, noi nell'immaginario collettivo lei, così come la canalista, sono le veline. In realtà lei è molto di più, una donna che come dicevo prima si è rimboccata dalle maniche tante volte e con questa esperienza ha dato un modo, ha dimostrato di avere veramente un bel carattere. Sara, un'ultima domanda per te, la celeberrima Sharon Stone, così mi ha cambiato l'ictus e sappiamo che ha attraversato questo periodo delicato della sua vita, ecco che dichiarazione hai rilasciato oggi? Allora era il 2001 quando lei è stata colpita da un ictus, come sappiamo quando una patologia del genere si verifica nella vita di ognuno di noi, insomma il recupero non è proprio immediato, cioè ci sono casi fortunati e casi meno fortunati. Per lei il recupero complesso è arrivato dopo sette anni e nel mondo dello showbiz, ancora di più nel mondo di Hollywood, sette anni sono tanti perché sappiamo che nasce una stella e muore poco dopo rimpiazzata da qualcun altro, ecco lei si sentiva di non essere più al passo con i tempi. Allora che ha fatto? Non si è arresa, ha fatto pace con se stessa, ha accettato il fatto di essere cambiata a causa di un evento che non ha scelto ovviamente, ma si è reinventata, è tornata a splendere brillando di luce propria e dipingendo, lei fa la pittrice, tra l'altro la sua prima opera è stata anche venduta per 30.000 dollari, quindi insomma una cifra importante. Lei trascorre le sue giornate così ed ecco è in questo modo che l'ha cambiata l'ictus, c'è una maggiore consapevolezza e gratitudine anche nei confronti della vita, ma anche il saper accettare e lasciare andare quello di cui non si può più gestire a causa, ripeto, di un problema che lei comunque non ha scelto, ma al tempo stesso reinventarsi e trovare un nuovo motivo per vivere, trascorrere le sue giornate davanti a una tela bianca che poi prende le forme, le dimensioni e i colori di tutto quello che ha dentro e riesce a trasmettere a chi poi acquista i suoi diventi. Beh, quando si dice la resilienza, la capacità di rimodularsi a seconda di quello che la vita ti dà o ti toglie. Sara, grazie per questo tuo intervento, quando parliamo di Cronanca Rosa, grazie davvero e ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima uscita. Grazie ancora la giornalista Sara Morette, grazie, grazie, grazie. E ora cambiamo argomento, l'autore carrarese Matteo Nervi ha esordito sul panorama editoriale con Utrum e altri racconti di voce narrante, edizioni GFE di Roma, ricevendo con il racconto dal titolo Il fantastico mondo di Zicca il primo premio nella categoria all'interno del concorso letterario di poesia e narrativa Gianni Di Benedetto e Piero Franzosa, settima edizione 2024 e classificandosi anche al quinto posto al quarto premio internazionale Dostoievski nella sezione Romanzo inedito o raccolta di racconti. Ce l'abbiamo in collegamento dalla Toscana, do subito il benvenuto anche a Matteo Nervi. Buongiorno Matteo, ben trovato qui sul canale Europa TV. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, come nasce l'idea di questo libro? Tu che nella vita non l'ho detto, ma sei un avvocato civilista, tra l'altro anche la prima ospite è un avvocato, è una tua collega, però c'è questa scrittura che ti accompagna e non solo, lo vedremo magari dopo. Come nasce questa idea? Allora, Galeotto è stato un concorso letterario, che è il primo che hai citato, al quale ho deciso di partecipare. Quindi la misura del racconto cosiddetto lungo nasce proprio per l'esigenza di partecipare. Quindi io ho questa tipologia di scatola, la otto per necessità, e poi la vado a riempire di una serie di contenuti. Dopodiché, da cosa nasce cosa, la voglia di continuare di scrivere altro è andata di conseguenza. A quel punto mi è venuta l'idea di fare una raccolta che fosse un compendio di vari racconti lunghi, con panoramiche completamente diverse tra loro, contestualizzazioni completamente differenti, e tuttavia con una serie di minimi comuni nominatori che potessero essere sia, diciamo, il cuore contenutistico della raccolta, maniata anche da delle ricorrenti, quali espedienti letterali ben precisi. Allora, un titolo particolare, rigorriamo al latino, del resto come nella trasmissione di ipso facto, e quattro racconti fondati su dei pilastri portanti, direi, che sono l'indagine introspettiva, la solitudine, e anche, lo dico, tra virgolette, una critica di genere. Raccontaci un po' la scelta del titolo, Matteo, e anche di affrontare queste tematiche. Allora, il titolo è innanzitutto il titolo di uno dei racconti, e poi da lì è diventato, è stato scelto da me, anche come titolo dell'intera raccolta. E in entrambe le, diciamo, situazioni ha un significato importante, diciamo, chiude un po' in sé il cuore del significato, seppur in accezione completamente diversa. Allora, in disparte dal significato che ha, utrum, quale titolo dell'omonimo racconto, che non è inutile qui dirlo per non spoilerare nulla, ma in cui utilizzo quell'avverbio, proprio quale preposizione interrogativa, questo forse che per eccellenza, quale titolo dell'intera raccolta, faccio proprio una scelta. Ho cercato di compendiare in unica parola tutta una serie di messaggi. Quindi questo forse che per eccellenza è un po', per me, l'umiltà del dubbio. Cioè il dubbio, quale modalità di racconto alla vita nel rapportarsi sia con noi stessi, e quindi l'indagine introspettiva, sia nel rapporto con gli altri, che devono essere come tali, visti più che come gli altri, cioè come i diversi, qualcosa che sta al di fuori di noi, un po' come il nostro prossimo. E quindi in questo senso l'umiltà di dubbio è anche nel confronto di genere, cioè nel rapportarsi tra mondo maschile e mondo femminile, che per farlo funzionare, questo rapporto è necessario sempre che ci si ponga, prima di tutto mettendo in dubbio anche un po' noi stessi, per poi eventualmente approcciarsi in modo corretto anche al nostro prossimo, e in questo caso femminile, perché io chiaramente esprimo il punto di vista prettamente maschile. E poi c'è la voce narrante, del resto lo capiamo subito anche già dal titolo, e altri racconti di voce narrante. Ecco, questa cosa mi incuriosisce tantissimo. Chi è voce narrante? Allora, l'idea di voce narrante nasce un po' per necessità e un po' per caso. Un po' per necessità perché io chiaramente mi sono detto, devi riuscire ad avere qualche elemento di originalità che fosse di natura prettamente stilistica. E a questo punto, nella mia riflessione, un po' per caso, nasce scrivendo l'idea che all'interno di un racconto, quindi di un rapportarsi di personaggi tra loro e con la realtà che vado a descrivere e immaginare, arriva anche un elemento esterno, che poi sono io, voce narrante, maiuscolo, nome e cognome, che esprimo un punto di vista in più. Mi è venuto quindi spontaneo, mi è piaciuto, ho continuato a usarlo, però il suo significato proprio l'ho compreso solo in un momento successivo. Riflettendo, riflettendo e anche leggendo un po' così in psicologia, mi sono reso conto che la sua portata la possono spiegare un po' gli archetipi yang-yangi, come direbbe Meroni. Ecco, voce narrante alla fine è un qualcosa in più che completa la riflessione dei personaggi stessi, più che poi dell'autore. Cioè è la faccia interna della maschera, una maschera intesa proprio come maschera dell'attore in teatro, quindi maschera del personaggio che deve indossare nel rapportarsi con gli altri, quindi nella difficoltà di dover sostenere i fenomeni del gregarismo adattivo, e la faccia interna che però si rapporta con l'io psicologico, con l'anima, quindi in questa conflittualità e in questa riflessione interiore che si rapporta al lettore come se fosse un monologo e in pausa del racconto tra il personaggio e il lettore stesso. Ecco, tutto questo per dire che da lì ho compreso che in realtà voce narrante, quando parla anche introspettivamente dei propri personaggi, dimostra come ci sia l'autore stesso, cioè io, ci sia e all'interno di ognuno dei personaggi un pochino nascosto e che lì emerge in quel momento di monologo. Matteo, un'altra grande passione che ti accompagna da sempre è la musica. Quindi, Matteo Nervi, scrittura e musica, dove si incontrano in questo libro? Beh, questo libro senza la musica, come devo sempre dire, non esisterebbe. Né punto di partenza, punto di arrivo e neanche gioco o espediente letterario ho sempre una tentativa di dare un elemento di originalità e di cifra stilistica in particolare ai miei racconti. In quest'ultimo senso io uso, così l'ho definita, la metafora musicale. Cioè, in questo dialogo introspettivo tra l'autore e i propri personaggi che poi è fondamentalmente il cuore di ogni racconto, spesso io cerco di invocare un contesto musicale, un particolare brano musicale, che possa sfumare nella descrizione delle emozioni che io ho cercato di mettere in scena. Emozioni, sentimenti, rapporti. E la musica li descrive e li completa. E questo è l'aspetto prettamente stilistico. Però la musica per me è anche un punto di partenza, perché ci sono dei grandi temi che io vado a citare da Einaudi a Ennio Morricone e anche alla musica rock degli anni 70. Sono tutti momenti di ispirazione. Cioè, senza il mio ascolto ripetuto mille e mille più volte non avrei mai probabilmente avuto l'idea di comporre certe parti dei miei racconti. Il punto di arrivo, perché la musica per me alla fine è anche un momento di speranza. Cioè, quel momento che permette a ciascuno di noi, nella proprio bagaglia culturale, di trovare gli stimoli per andare avanti. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Sottoscrivo ogni tua parola, Matteo. E poi, in ogni racconto c'è un segreto. Perché quest'idea, questo espediente narrativo? Allora, in questo caso, come qualcuno me li ha definiti i miei racconti, facendo il privilegio, insomma, di recensioni letterarie, ogni racconto è costruito sullo schema di una sorta di microgiallo. Quindi il segreto è necessario per incuriosire, costruire una dinamica che porti il lettore dall'inizio da avere, diciamo così, delle risposte sino in fondo per capire quale sia la conclusione. Però questo aspetto è un aspetto, come dire, cutaneo. Perché da un punto di vista poi più sotto cutaneo i miei racconti chiaramente non hanno una finalità prettamente ludica. Quindi questo microgiallo serve sempre a indagare un qualcosa che poi non è, nella sua conclusione, un colpo di scena, ma è una sorta di svelazione, un troppo d'esprit, cioè un qualcosa che vada a stimolare una riflessione. E quindi lo schema di curiosità, percorso, o meglio viaggio, che c'è anche questo è costante da ogni racconto, e di svelazione, permette a voce narrante di portare il lettore a interrogarsi alla fine, rimuginando su quanto ha letto, a interrogarsi anche su se stesso. Ecco, quindi non hai la presunzione, diciamo così, lasciami passare il termine Matteo, di dare attraverso le tue pagine più risposte a chi ti legge, bensì di suscitare in coloro appunto che si apprestano alla lettura del tuo libro, dei tuoi racconti, punti di riflessione e di confronto, detto bene? Sì, direi di sì, direi che voce narrante assolutamente non può e soprattutto non vuole, non ha la pretesa di dare delle risposte. Questo perché sarebbe al contrario il negare l'intero approccio alla vita che ho cercato di mettere in scena nei miei racconti. Quindi come possiamo sintetizzarlo? Beh, possiamo dire che l'approccio alla vita nell'umiltà del dubbio che voce narrante vuole stimolare ognuno di noi è un po' il socratico io so di non sapere o è il metodo galileiano, cioè la tentare di comprendere battendo prima di tutto su noi stessi quelle che sono anche i patimenti del prossimo, una sorta di tentativo di apprendimento cinestetico di stati emotivi. Insomma, bisogna comprendere prima di tutto gli altri e poi comprendere noi stessi, ma per comprendere gli altri bisogna anche mettere prima di tutto in dubbio noi stessi. Quindi per fare ancora un altro riferimento letterario voce narrante si ispira più a un Guglielmo da Baskerville, il personaggio principale del nome della rosa, a confronto con Gorghe de Burgos, che invece ragiona sulla base di un metodo deduttivo dove vuole partire da delle certezze, che possono essere certezze di fede o di indiscutibili assiocitativi e da lì farne delle conclusioni. Invece voce narrante dice prima di tutto cerchiamo di patire su noi stessi, comprendiamo, indaghiamo. Il tutto ovviamente applicato agli stati emotivi. In uno dei miei racconti vado anche a citare la quasi, come i principi che regolano il nostro sapere scientifico, applicati però agli stati emotivi. Gli stati emotivi ci sono, li viviamo, non dobbiamo negarli, dobbiamo sentirli su noi stessi per capire noi stessi e anche gli altri. Sempre, tuttavia con la comprensione che alla fine tutte le emozioni si scioglono sempre in qualcosa di diverso. E quel qualcosa di diverso che verrà è il momento in cui noi, comprendendoci, possiamo incidere sulle nostre conseguenti azioni. Su quello possiamo incidere. Matteo, voce narrante promuove l'umiltà del dubbio, si interroga, prossima sfida per te, un romanzo, quindi abbandoni la brevità per arrivare ad una forma di narrazione più estesa, più lunga? Allora, diciamo, facciamo una confessione. I racconti erano più di quattro, ne ho scritti più di quattro, e alcuni mi sono reso conto che avevano già una dimensione che li rendeva esorbitanti rispetto alla misura del cosiddetto racconto lungo come categoria letteraria. Allora li ho messi da parte e li ho implementati. E da lì sono nati due progetti di romanzi di cui uno fondamentalmente è praticamente pronto, aspetterà il suo momento. Ora stiamo promuovendo ancora Ultrum. E quello che posso spoilerare di questo romanzo è che non ci sarà nessun elemento in meno rispetto a Ultrum, quindi sarà un romanzo di voce narrante, come Ultrum è una raccolta di racconti di voce narrante, però la misura più lunga mi permetterà di diluire più tutto quello che ho cercato invece di compendiare, probabilmente comprimendolo anche troppo, all'interno di Ultrum. Grazie Matteo, grazie, ci hai fatto una carrellata dall'esordio, da quando si è introdotto in te questo valore di insinuare il dubbio, di interrogarsi, fino poi alla stesura e anche ai progetti letterari futuri. È stato un piacere averti nostro ospite in questa puntata, grazie ancora. Ora invece parliamo di politica e non solo, lo facciamo con Daniela Foschetti che ha studiato scienze politiche e si è poi laureata in sociologia, area economico-giuridica presso l'Università di Urbino. Lei è un personaggio pubblico, anche sindacalista, esperta di project management e ha rivestito in carichi prestigiosi. Le diamo il benvenuto, Daniela, grazie per essere nostra ospite. Grazie a voi per l'invito, è molto gradito questo. Grazie a te e parliamo di politica, un argomento che interessa a tutti, interessa alla comunità, un argomento, se vogliamo, anche delicato. Ecco tu che da tanti anni militi nell'ambiente, se dovessi fare un paragone tra la politica di ieri e quella di oggi, che cosa ci diresti? Cosa abbiamo perso secondo te? Che cosa abbiamo guadagnato? È vero, io faccio politica da tanti anni e da tanti anni mi interesso a quello che è il mondo della politica, ma l'ho anche studiato, perché le scuole che ho fatto sono, in qualche modo, mi hanno preparato a questa attività. Devo dire che le regole della politica sono sempre state le stesse, non è che cambino nel tempo e Machiavelli ce lo insegna, ma ovviamente la politica deve adeguarsi a quelle che sono le nuove necessità della realtà che deve affrontare, quindi non sono le regole che cambiano, ma è, diciamo, l'impatto con la realtà che si è evoluta nel tempo in maniera esponenziale. Quindi non abbiamo perso niente dalla politica del passato, abbiamo una politica diversa che però segue ancora, purtroppo, le regole storiche, quindi ci troviamo davanti a cicli e ricicli storici. Gian Battista Vigo lo diceva del resto, aveva ragione. Ti rivolgo alla stessa domanda, Daniela, nell'ambito sindacale, ecco, questo mondo ha le stesse regole, valgono le stesse parole che è espresso per la politica o è completamente qualcosa di differente? Sono le stesse regole, ipotizzate in maniera diversa perché ovviamente l'attività sindacale è diversa da quella politica, ma le regole vengono studiate, vengono studiate all'università, le relazioni industriali mi hanno imposto almeno tre esami in sociologia e come per la politica è l'attività sindacale che nel tempo si deve evolvere per non rimanere indietro rispetto al mondo che si evolve in maniera velocissima. Quindi la nostra attività sindacale è improntata proprio al tentativo non di rincorrere la realtà che cambia ma di immaginare la realtà in modo tale da poterla gestire nelle trattative che facciamo con le aziende e col mondo del lavoro. Ovvio, io venendo da un'esperienza di un sindacato che è del sistema bancario in quella ho sviluppato particolari approfondimenti per poter essere al passo col tempi che cambiano, anzi anticipare i tempi che cambiano se possibile. Quindi sono sempre le stesse le regole di base però devono in qualche modo evolversi per allinearsi e a volte anticipare quelle che sono le nuove dinamiche della realtà che ci circonda. Tu oggi sei riferimento del coordinamento donne e pari opportunità. Qual è il progetto che hai portato avanti e che ti ha dato maggiore soddisfazione? Come coordinamento donne e pari opportunità nei diversi ruoli che ho ricoperto nel tempo abbiamo portato avanti diversi progetti interessanti che non si sono limitati al mondo bancario ma hanno sempre cercato di coinvolgere anche il mondo del lavoro in generale e il mondo sociale perché una particolare attenzione l'abbiamo sempre avuta per particolari soggetti quindi il mondo della disabilità è un altro dei nostri temi caldi. Tutti questi progetti mi hanno dato grandi soddisfazioni mi hanno permesso di conoscere persone meravigliose con i quali ho collaborato nel tempo. Ovvio che l'ultimo che abbiamo realizzato che è stato portato avanti nel 2023 ad aprile 2023 questo convegno a Roma che parlava del futuro possibile non solo per le donne lavoro parità innovazione sostenibilità contro ogni violenza e discriminazione è quello che ho più nel cuore anche perché è il primo evento è stato il primo evento dopo l'evento covid quindi è stato proprio voluto da noi dal sindacato dalla nostra segreteria nazionale che ci supporta e devo dire anzi ci invita a continuare queste iniziative è stato come dicevo il primo convegno realizzato dopo l'evento covid avevamo proprio voglia di rivederci di incontrarci di abbracciarci di raccontarci in maniera diversa da quella che di solito per due anni abbiamo dovuto affrontare e sopportare è stato un evento molto importante abbiamo avuto tra l'altro la possibilità di incontrare tutta una serie di figure che hanno nel tempo affrontato le problematiche relative al mondo femminile e spero proprio che con loro si possa iniziare un percorso per continuare il nostro impegno visto che siamo donne quindi conosciamo tutte le problematiche del mondo femminile quanto sia importante farci riconoscere far riconoscere le nostre capacità e le nostre qualità nella realtà attuale spero proprio con queste persone e con queste strutture di poter continuare il lavoro che abbiamo iniziato nel 2023 sì anche perché ti impegni tantissimo anche proprio contro la violenza di genere che è un argomento di stringente ahimè di stringente attualità hai dichiarato è una frase che mi è piaciuta molto sono figlia moglie e madre rappresento le donne della terza età che oggi è un'età splendida un'ampia percentuale della cittadinanza appartiene a questa età della vita ho tanto da dire da dare in termini di esperienza e visione ecco mi viene in mente anche la silver economy dove oggi anche a livello economico la terza età è vista come come un valore come dire un qualcosa che ha tanto da dare alla società raccontaci Daniela beh in questa età che è l'età un'età davvero silver d'argento ci si può permettere di scegliere come si vuole essere perché nel tempo tante volte si deve subire come si deve essere nel mondo del lavoro nella realtà per gli impegni che si hanno in questo momento proprio perché ho un'età e un'esperienza che mi aiutano ho deciso di far conoscere come sono realmente la persona che sono le esperienze che ho fatto che fino adesso avevo tenuto per me o avevo poco enfatizzato ma non non per avere dei riconoscimenti ma proprio per far capire a chi mi conosce che tutto quello che ho vissuto tutte le esperienze possono essere ora messe a disposizione per la collettività per una comunità che purtroppo ha ancora dei limiti nell'affrontare quelle che sono le tematiche e di risolvere soprattutto quelle che sono le tematiche della terza età ci sono tanti limiti ci sono tanti dovuti anche a discorsi di carattere economico piuttosto che scelte fatte nel tempo che invece piano piano con l'esperienza che si porta noi che l'abbiamo vissuta e le stiamo vivendo possono essere risolte senza grosse difficoltà con tanta serenità e semplicità perché possiamo mettere a disposizione proprio tutto quello che noi abbiamo vissuto e magari abbiamo anche risolto personalmente ma è un conto risolvere le questioni singolarmente con tutto quello che ne deriva è un conto fare delle scelte importanti per la collettività a beneficio di tutti certo in una popolazione tra l'altro come quella italiana ma non è solo un problema italiano che sta invecchiando anche i dati di state più recenti fanno questa fotografia di quello che poi sarà il futuro da qui ai prossimi decenni tutto ciò senza però dimenticarci questo lo so che lo fai attivamente dei più giovani che è un'altra fascia di età che merita particolare attenzione e che ha le sue difficoltà da dover affrontare Daniela e qui divento la sindacalista che è in me metto a fuoco quelle che sono le peculiarità della sindacalista nel mondo del lavoro ci rendiamo conto di quanto sia importante dare la possibilità ai giovani di farsi conoscere e far valere le proprie capacità e tutto quello che la loro voglia la loro energia che noi silver magari abbiamo un pochino limitata quindi noi di questa fascia di età dobbiamo impegnarci proprio perché chi ha voglia di fare ha voglia di dare ha voglia di portare nel quotidiano nella vita del lavoro soprattutto i giovani che devono farsi un futuro vengano aiutati devo dire perché io ho fatto un'esperienza proprio sul questionario che ha ispirato l'evento il futuro possibile ci siamo resi conto invece quanto i giovani abbiano ancora dei limiti nell'apprezzare alcune alcuni aiuti che possono avere da noi come gente di esperienza e ci delegano invece tante cose che dovrebbero imparare ad affrontare in prima persona e quindi magari preferiscono il volontariato o un volontariato poco impegnativo mentre quello che cerchiamo di far passare noi è che ci sono tanti diritti ci sono tanti doveri che le persone per essere tutelate devono conoscere non possono delegare ad altri la loro tutela quindi ci piacerebbe che i giovani si impegnassero nel sindacato nella politica nel mondo sociale con la stessa energia in modo tale da essere consapevoli di quello che possono dare ma anche di quello che possono avere e del loro futuro per il bene anche del nostro paese perché è una una grossa angoscia è quella di vedere tanti giovani che decidono di andare all'estero perché non si sentono particolarmente apprezzati barra remunerati nel nostro paese dopo aver studiato tanto dopo aver studiato tanto quella della fuga dei cervelli è una tematica di altrettanta stringente attualità un'ultima domanda un tema a te caro è quello della sicurezza ecco in chiusura vorrei che tu spendessi due parole in questo senso Daniela la sicurezza è un tema ampissimo perché la sicurezza è la la necessità di sentirsi tranquilli nel mondo in cui viviamo e può essere la sicurezza nel mondo del lavoro la sicurezza nell'ambiente dove viviamo la sicurezza di un posto di lavoro quindi sicurezza tante sfaccettature per quanto mi riguarda è forse uno dei temi che mi appassionano di più anche perché sono donna quindi in alcune situazioni mi sono trovata veramente in difficoltà e come molti di di noi si senti ancora in difficoltà quando deve affrontare alcuni passaggi della vita la sicurezza invece poi se si pensa al mondo dove abitiamo nella comunità dove viviamo è data da questa sensazione di potersi muovere di poter vivere di poter realizzare anche piccole cose senza il terrore la preoccupazione di dover subire particolari comportamenti sgradevoli poi anche qui parlo da sindacalista rimetto la giacchettina della sindacalista e anche qui vi dico nel mondo del lavoro avere la certezza di poter contare su regole certe che ti garantiscano sicurezza e che quindi mettano in difficoltà chi può creare delle situazioni difficili da affrontare è molto e molto importante ci sono tante regole le sappiamo ci sono tanti buoni propositi lo sappiamo ma sappiamo anche che quotidianamente ci sono delle situazioni veramente pesanti e noi donne in particolare siamo forse gli oggetti non dico soggetti gli oggetti di queste scelte pesanti che poi mettono anche a difficoltà tante volte mettono addirittura a repentaglio la vita delle persone quindi l'impegno è proprio quello di cercare di far passare non solo sulla carta ma soprattutto nella realtà il concetto di tutela e di sicurezza a beneficio di tutti bisogna mettere in concreto nella quotidianità e un po' in tutti gli ambiti mi sembra di aver capito con questa garellata che abbiamo fatto insieme Daniela un sano bilanciamento tra quelli che sono i diritti e i doveri in un impegno comune collettivo perfetto hai sintetizzato praticamente tutta la nostra chiacchierata in poche parole si è entrata seppure seppure i tempi televisivi siano sempre tiranni nello specifico di ogni tematica di cui ti ho chiesto un'opinione Daniela grazie per essere stata nostra ospite in questa puntata grazie davvero per aver portato la tua esperienza lunga anni e anni qui da noi grazie ancora Daniela Foschetti grazie a voi e grazie a te in particolare per la gentilezza grazie e buona giornata a tutti grazie altrettanto e adesso invece torna il nostro Valerio Vecchi con la sua rubrica Voci d'Italia sentiamo Bentornati cari amici in questa puntata di giugno con questo caldo che ci tiene compagnia noi scopriamo la storia di oggi qui a Voci d'Italia sono Katia Giannini sono Afterlife Soul Healer e Mental Coach la mia quotidianità è un ponte fra la realtà di tutti i giorni e l'aldilà proprio perché il mio lavoro è quello di accompagnare le persone alla scoperta di se stesse alla scoperta della loro missione e capire qual è il senso della vita lo scopo e il senso della vita la mia quotidianità è quella di aiutare le persone a dare un senso alla loro vita sono autrice di quattro libri e i primi tre parlano prevalentemente del racconto dell'aldilà ho questa esperienza premorte che mi permette di poterlo descrivere e soprattutto di poter divulgare questo tipo di informazione mentre il quarto è il libro che parla della crescita personale all'evoluzione personale di ognuno e su questo cambiamento nasce il metodo soulfulness che è proprio un metodo ideato nell'arco di questi ultimi trent'anni di lavoro e che mi permette di saper leggere la tua parte più profonda e la tua dinamica di vita attraverso il metodo soulfulness insieme riusciamo a fare questo tipo di percorso e da qui proprio la gioia di averlo portato nelle pagine di un libro perché mi permette di portarlo veramente a tutti alla portata di ognuno e questi esercizi queste letture questa possibilità di riflessione insomma il fatto di diventare un pochettino più riflessivi di scoprire quella parte di se stessi che magari non siamo abituati a guardare il metodo soulfulness è il metodo che utilizzo sul lavoro è il metodo che ci parla di evoluzione perché l'evoluzione quest'anno è estremamente forte perché c'è un'energia estremamente intensa è un'energia di cambiamento è un'energia che parla di crescita di scelta e soprattutto di bisogno di tornare a se stessi il mio libro metodo soulfulness è molto legato allo sviluppo personale è legato all'introspezione allo scoprire perché sei al mondo c'è uno scopo c'è un senso e c'è una ragione per la quale sei nato per la quale sei qui per la quale la tua quotidianità ha un ritmo ben scandito e definito questo libro metodo soulfulness nasce proprio dal mio metodo di lavoro per riportarti a te a riscoprire veramente chi sei a scoprire il tuo cammino il tuo percorso la tua strada la tua evoluzione le tue scelte è proprio il cammino che tu stai percorrendo portando avanti abbiamo bisogno di un cambiamento abbiamo bisogno di tornare a noi alla nostra serenità scoprire chi siamo di tornare alla nostra pace alla nostra tranquillità il mondo è un po' nervoso l'energia che c'è attorno a noi è abbastanza elettrica la percepiamo tutti i giorni lo vediamo dall'insieme delle persone dalla difficoltà di comunicare o di trovare un punto d'incontro vediamo quanto in una discussione a volte tutto sfocia in una difficoltà enorme il metodo soulfulness serve proprio a questo a riportarti a te alla tua serenità a riscoprire che finalmente puoi ma soprattutto a quanto meriti il benessere a quanto meriti la meraviglia di tutto quello che la vita ti può portare hai mai pensato a come sei una bella persona a che personalità fantastica hai ma come tante volte invece non riusciamo poi a essere noi stessi perché lo stress la paura tutto quello che non riusciamo a dire la nostra incapacità di comunicare quanto ci blocchiamo la paura del giudizio la paura delle conseguenze di essere rifiutati di non essere più amati e su questo metodo soulfulness è nata la masterclass proprio perché è una giornata insieme dedicata speciale in cui io vi accompagno con un numero molto ristretto di persone proprio per potermi prendere cura di ognuno di voi e vi accompagno alla scoperta di se stessi quindi è un giocare è uno scoprirsi è uno scoprire chi vuoi diventare chi sei che strada vuoi seguire ma soprattutto come fare per diventare veramente la parte più bella di te ti aspetto se tutto questo ti ha incuriosito e ti affascina il metodo metodo soulfulness fa proprio al caso tuo puoi trovare tutte le altre informazioni sui social in instagram come Katia Giannini oppure sul mio sito www.katiaiannini.com e anche questa preziosa testimonianza finisce nell'archivio delle nostre storie a Francesca torna la linea e vi aspetto alla prossima puntata e ora l'ultimo ospite di questa puntata nel 2023 ha festeggiato dieci anni di carriera è recensito e premiato in varie parti del mondo e oggi Miguel Angel Acosta Lara è in collegamento per noi dal Messico Miguel benvenuto mille grazie a mia carissima Francesca siamo qui molto contento e per me un grande onore di stare in questo meraviglioso programma di televisione grazie a te e adesso ci spiegherai un po' di più della tua bellissima arte come ti avvicini a questo mondo tutto inizia nel 1994 quando ho l'opportunità di lavorare con la versione 3.0 di Photoshop in questo momento io ho aperto la mia mente a un mondo meraviglioso che significa Photoshop con la sua manipolazione della immagine io lavoro per molti anni e nel 1910 io ho aperto la prima pagina web con la unica intenzione di pubblicitarmi come un insegnante di Photoshop ma la vita si trasforma in una situazione e dopo di un certo tempo gente di tutte parti del mondo mi scrive e mi dice Miguel la tua tecnica in Photoshop è meravigliosa ma di uguale forma molta gente mi scrive e mi dice Miguel tu sei un grande artista in questo momento è un momento molto importante nella mia vita perché è un momento di un shock emocionale perché che nunca io ho immaginato che la gente puoi vedere la mia opera come un vero arte credo che questo è il momento preciso in cui io mi incontro con l'arte sì davvero tutto il mondo ti sta riconoscendo questo talento quali sono i momenti più importanti della tua carriera perché io ho detto dieci anni nel 2023 in cui hai festeggiato però le origini sono ancora più indietro nel tempo quali sono i momenti più belli che ricordi anche i premi che ricordi con maggiore orgoglio io penso che il momento mai importante nella mia carriera artistica è potermi darmi in cuenta che non è più tardi per iniziare l'incontro con l'arte perché io inizio in questo meraviglioso mondo all'edà di 51 anni penso che è la lezione ma importante della mia vita che non è tardi per iniziare qualche progetto è molto bello quello che hai detto è un bel consiglio un bello stimolo che dai a tutti non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa senti vediamo regia vediamo insieme miguel vediamo un video con la tua arte vediamolo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 che ci hai raccontato. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. persone in Italia. che sempre a tutti. Grazie 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 a tutti. ancora.